Amici del Calcio Wisp, buona serata dallo stadio comunale Città di Arezzo, è la finalissima della Coppa Edo Gori, si sfidano l'Asa Calcio Anghiari che cerca il triplete dopo aver vinto il campionato e la finale playoff. Dall'altra parte l'Isola, vittoriosa in seconda divisione, girone B, che cercherà dunque di portare a casa anche questo trofeo. Sono nei pressi dell'area di rigore, va Berti, palla che filtra, c'è una deviazione con l'uscita del portiere Pellegrini. Attenzione che c'è Maghiotti, la conclusione, con palla sul fondo, questa è la prima vera occasione con Maghiotti che ha cercato la porta, ha cercato l'angolo basso lontano. Un replay di anno scorso. Allora, con l'arbitro che sta parlottando con i giocatori dell'Isola in barriera, Petruccioli. Occhio al suo destro, va Petruccioli col destro, batte bene ed è bravissimo anche Mencarini. Tenti, occhio al suo destro, a girare verso l'aria. Palla a mezzaltezza pericolosa che finisce in rete! Tenti su calcio di punizione, l'Isola all'improvviso passa in vantaggio, un tracciante che si è infilato. Tra varie gambe e passa in vantaggio dunque l'Isola per la gioia incontenibile di Tenti, 1-0. Un gol fortunoso, possiamo dirlo. Tenti ha calciato una posizione insidiosissima, è passata fra le gambe di un difensore dell'Asa. Milo però, Milo in posizione regolare, Milo regolare. Milo dall'altra parte, per Berti tutto solo, Berti, Berti, rimane lì, finisce a terra, calcio di rigore! Sta per tentare la trasformazione contro Pellegrini, se segna l'Isola conquista la Coppa. Parte Vicari, destro spiazzato Pellegrini, il raddoppio dell'Isola su calcio di rigore! Fischio finale, il trionfo è dell'Isola che batte 2-0 l'Asa Anghiari. Questa Coppa è splendida perché può accadere anche che una formazione di seconda divisione batta una che ha trionfato due volte in stagione, che ha vinto l'eccellenza, ha vinto i play-off e però nella finale della Coppa ai Dogori, l'Isola, sapendo soffrire al momento giusto, ha colpito al momento giusto e poi a quel punto l'Asa è andata un po' in confusione e difficoltà. Seconda divisione sulla carta perché in campo sono tutti giocatori da eccellenza. Qual è il merito dell'Isola? Il merito dell'Isola, la dirigenza dell'Isola è quello di aver ricreato, oltre che una squadra, un gran gruppo. L'Isola quest'oggi ha vinto grazie al gruppo, ha vinto grazie ai giocatori che tengono a questa maglia e sicuramente hanno meritato perché l'Asa Calcio non è riuscita a sfruttare, secondo me, la preparazione fisica migliore, la tenuta fisica migliore rispetto a quella dell'Isola e non è riuscita a concretizzare o a trovare occasioni pericolose e questo ha fatto la differenza.